buongiorno ben ritrovati venite ad abbeverarvi alle fonti anche oggi dunque venerdì 30 aprile per una fortunata coincidenza del tutto involontaria esattamente quattro anni fa cioè il 30 aprile del 2017 il quotidiano la verità andava in edicola in quel giorno con una mia intervista adesso vedrete la copia certificata che testimonia che non vi sto raccontando bubole una mia intervista a Marcello Lippo esattamente il 30 aprile del 2017 una bella chiacchierata con Marcello Lippi di cui io mi sono sempre dichiarato fan perché l'ho sempre apprezzato come allenatore anche quando allenava la squadra più odiata d'Italia da otto anni alla Juventus e nell'incipi vabbè possiamo vedere Marcello Lippi possiamo far vedere Marcello buongiorno Marcello buongiorno 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 parla parlavamo del fatto ma poi ci arriviamo di quale deve essere l'atteggiamento o quale può essere l'atteggiamento di un allenatore il quale anche uno psicologo però quale deve essere non può essere quale deve quale deve essere quale deve essere perfetto scusate sapete che Lippi è molto apodittico nelle sue affermazioni no però posso ricordare solo l'incipit di quell'articolo non per 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 citarmi addosso però è per ricordare diciamo così una parte della carriera di 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 Marcello Lippi con la Juventus scrivevo ha vinto cinque campionati di serie A una Champions League una Coppa Intercontinentale una Supercoppa Europea quattro Supercoppe Italiane una Coppa Italia con Miguel Munoz Alex Ferguson e Carlo Ancelotti è il mister ad aver disputato il maggior numero di finali di Champions quattro di cui tre consecutive record condiviso con Fabio Capello con l'Italia ha triunfato ai mondiali 2006 diventando così il primo allenatore nella storia del calcio ad aver vinto le massime gare internazionali a livello di nazionali e di club già con questo parziale curriculum potremmo dire chiudiamo baracca e burattini andiamo alla corte di Marcello Lippi lo ascoltiamo in religioso silenzio Lippi lei anzi diamoci del tu perché ci diamo del tu puoi dire quello che ti pare che tanto va bene uguale adesso da dove da dove ci stai parlando non sei via Reggio sono a casa mia davanti al mare che sai che è una delle cose più importanti nella mia vita e sto parlando da casa mia e sono a casa a via Reggio in questo momento ho fatto un po' di vacanze però adesso adesso l'estate me la faccio qua Ok l'esperienza cinese all'epoca dell'articolo scrivevo dall'ottobre scorso cioè dall'ottobre 2006 era il CT della nazionale cinese no? Lì hai allenato la nazionale squadra di club l'esperienza cinese è si è chiusa quando? Si è chiusa due anni fa si è chiusa a settembre 2019 Antonio io sono andato a maggio del 2012 in Cina non nel 2006 nel 2006 sono stato fermo dopo il mondiale poi sono tornato alla nazionale italiana due anni e poi sono stato fermo altri due anni poi sei anni dopo nel 2012 sono andato in Cina ed è stata un'esperienza molto molto bella gratificante sinceramente sotto tutti i punti di vista e compreso quello economico bisogna essere sincero uno dei motivi perché anche quello poi dopo onestamente ho avuto la fortuna di allenare la scuola più forte cinese un po' come la Juventus in Italia e anche lì siamo arrivati e abbiamo vinto tre scudetti di fila e abbiamo vinto anche una cosa che pensa che nella coppa la Champions League Asiatica nessuna squadra cinese aveva mai superato i quarti di finale e noi l'anno successivo abbiamo vinto la Champions League Asiatica con squadra con squadre coreane, core del sud, giapponesi, australiane, iraniane che sono molto forti e perciò è stata un'esperienza molto molto bella e poi il grande capo di Bosse della mia squadra che è un imprenditore molto importante e ha bisogno dell'appoggio, della protezione del governo mi ha chiesto di andare a allenare la nazionale e lui mi ha detto io non posso dire di no al governo e allora io gli ho detto ma guardi che noi abbiamo vinto la Champions e abbiamo vinto tante cose col Guangzhou perché avevamo cinque extra comunitari, brasiliani, argentini, giocatori molto forti se giochiamo con tutti i cinesi è difficile vincere e lui mi ha detto una cosa molto bella che mi è piaciuta e mi ha detto ma guardi che vincere non significa soltanto guadagnare trofei si può vincere anche crescendo crescere vuol dire vincere e mi è sembrata una cosa bella e allora sono stato altri tre anni con la nazionale abbiamo fatto discretamente, abbiamo fatto la Coppa d'Asia, siamo arrivati a quarti di finale, abbiamo tirato su tanti giovani insomma è stata una bellissima esperienza Quanto ti manca il calcio visto dalla panchina? Mi manca soltanto quando lo vedo, nel senso che mi scopro a pensare che io farai quello, io farai quell'altro mi piace quel modo di giocare, mentre vedo le partite mi scrivo degli allenamenti che mi vengono in mente in quel senso lì mi manca, però poi dopo onestamente sinceramente andare sul campo a lavorare non ce n'avrei più voglia Allora, visto che ieri sera è possibile tu abbia visto l'impegno della Roma col Manchester United Sì Che cosa mi dici della partita e del risultato? Dico che la partita è stata affrontata, le partite da sempre, le partite cominciano in una maniera vanno avanti in un'altra e finiscono in un'altra ancora ecco perché magari a volte è importante anche cambiare qualcosa durante la partita Allora, cominciamo col dire che la Roma è stata sfortunatissima perché ha cominciato la partita con molta convinzione con un atteggiamento molto giusto, moderno, è andata a pressare, è andata in vantaggio, ha giocato molto bene ha concesso molto poco, poi ha avuto tre infortuni insomma gravi perché Bere e Tu, Spinazzola soprattutto sono giocatori molto importanti e era una squadra che già era diciamo con gli uomini contati aveva giocatori che erano rientrati da pochissimo e perciò con l'Audi ancora da completare e trovarsi subito a dover cambiare, poi nel secondo tempo aveva già fatto tutte le sostituzioni praticamente e non poteva più cambiare, aveva giocatori che stavano malissimo in quel senso è stato affortunato magari nel secondo tempo un errore potrebbe essere stato quello di essere andati comunque sempre molto alti sempre a lasciare tanti spazi agli avversari che hanno fatto sei gol magari se perdevi 3 a 2 o 4 a 2 c'era ancora un margine di recupero nella partita di ritorno Allora sì, partita che anche per me che non sono tifoso della Roma ha significato ho molti amici vivendo a Roma che ovviamente ieri sera hanno patito perché poi vivo in una zona ma credo che tutta Roma fosse, almeno la Roma giallorossa fosse davanti ai teleschermi ieri sera per cui hai due gol del primo tempo ti lascio immaginare i boati che si sentivano arrivare dai condomini vicini e ovviamente poi il secondo tempo purtroppo è andato in una maniera diversa ti chiedo una cosa di Fonseca mi puoi dire quello che vuoi se vuoi dirmi qualcosa ma quello che tutti hanno scritto, quelli che hanno detto alla vigilia della partita era vabbè Fonseca ha mollato gli ormeggi per il campionato e si è concentrato sull'impegno internazionale tu quattro anni fa mi avevi detto una cosa mi avevi detto io ho sempre pensato io Marcello Lippi che l'unica maniera per vincere qualcosa è cercare sempre di vincere tutto perché se almeno giochi su tutti i campi e su tutte le scacchiere forse qualcosa rimedi se ti concentri su un obiettivo unico è certo è o rosso o nero o la va o la spacca in questo caso purtroppo non è andata sono pienamente convinto di questo ne sono sempre stato pienamente convinto lo sono ancora bisogna cercare di vincere il più possibile perché magari tu privilegi una competizione piuttosto che un'altra e poi dopo quando... e perciò magari fai... ma non sto parlando della Roma sto parlando in generale tu privilegi una competizione piuttosto che un'altra e poi ti capita che quando arriva la partita importante che tu hai privilegiato ti si infortuna con quattro giocatori e perdi e vai fuori e così sei fuori da una parte e dall'altra e poi dopo insomma perdere non è mai una cosa positiva anche se io so che perdiamo perché dobbiamo privilegiare con l'altra competizione ma non è mai positiva una convinzione, un'autostima, una convinzione di forza è sempre importante e perciò ho sempre detto io è vero, è vero mi sei ricordato bene che la maniera migliore per vincere qualcosa è cercare di vincere tutto che non vuol dire essere presuntuosi è soltanto una questione di realismo realismo per realismo e chiudiamo su questa parentesi dedicata alla Roma nella chiacchierata quella pubblica pubblicata quattro anni fa mi dicevi ho compiuto 71 anni con la Cina quando chiuderò con la Cina chiuderò col calcio ho fatto tutto quello che potevo fare e mi sono tolto le soddisfazioni eccetera però confesserò una cosa non mi sarebbe dispiaciuto allenare i giallorossi ecco, gli allenatori dei giallorossi purtroppo la panchina della Roma è una panchina perché sorridi Marcello? è una panchina faticosa perché ho tanti amici romanisti cioè mia nipote che è romanista è nata a Roma tutti gli amici romanisti di mio genero li hanno portato quando è nato un masso di gradioli giallorossi uno scudetto è nato quando la Roma ha vinto lo scudetto in 2001 e perciò c'è un gagliardetto con scritto benvenuto al magico Lorenzo nato del magico 2001 anno del magico scudetto da magica Roma pensa un po' che e lui è diventato romanista per forza e allora io ho sempre detto è vero che non mi sarebbe rispiaciuto allenare a Roma però è andata così non c'è problema non c'è problema dicono che adesso Fonseca andrà via arriverà a Sarri vogliamo fare il giochino delle panchine che vanno e che vengono? no se vuoi facciamo il giochino che vuoi ma allora Fonseca va via con la coscienza a posto è un allenatore che ha lavorato bene ha cercato di dare una mentalità giusta giusta, moderna, importante internazionale alla squadra ci è riuscito abbastanza non è stato fortunato ho avuto un sacco di fortuni un sacco di problemi però è un allenatore che mi è piaciuto a me è piaciuto anche a tante altre persone è piaciuto e Sarri è una garanzia Sarri è una garanzia se pensi che che l'anno scorso pur non facendo cose particolari è riuscito a vincere lo scudetto a Napoli ha fatto quello che sappiamo è una garanzia di qualità di gioco di qualità di lavoro e perciò mi piace Sarri senti ho elencato tutte le manifestazioni che hai vinto allenando la Juventus allenando la nazionale i mondiali del 2006 ti posso chiedere quando hai sentito parlare di Superlega qual è stata la tua prima reazione cioè quando hai sentito che c'erano 12 club che poi tra l'altro sono evaporati al sole nel giro di 48 ore come diceva ho fatto praticamente la reazione è stata quella di tutti gli sportivi italiani addetti ai lavori non addetti ai lavori tutti hanno avuto la stessa reazione di quasi di fastidio quasi poi dopo ho cominciato a ragionare senza tra me e me senza condividere con altri perché non volevo creare delle situazioni antipatiche e ho pensato che tutto sommato intanto la prima cosa che ho pensato è questa che a parte un paio ma quasi tutti i proprietari delle società di quelle 12 società sono arabi o americani o russi insomma non conoscono la nostra mentalità la nostra cultura calcistica come ragioniamo noi nel calcio e non potevano prevedere una reazione di tutti i tifosi di tutti gli addetti ai lavori lascia perdere le relazioni politiche che possono essere anche strumentali se vogliamo però non lo potevano sapere loro sono degli imprenditori hanno fatto dei debiti enormi e hanno cercato stanno cercando di recuperare questi debiti basta chiuso però perciò non le può neanche dare una colpa per la loro mentalità perché non la conoscono la nostra mentalità a noi invece rinunciare ai nostri campionati o ridimensionarli ma anche se non ci rinunci ma comunque sarebbero ridimensionati la nostra Champions League insomma non sarebbe una cosa simpatica e allora meno male che c'è stata questa marcia indietro sì ti dirò quello che penso io che sono un tifoso e non uno specialista la cosa che mi ha dato fastidio di tutto il dibattito è stato l'impianto moralistico di fondo nel senso di dire ah ma questi sono ricchi vogliono il calcio dei ricchi contro il calcio proletario amato dal popolo dopodiché io mi sono permesso di dire ma non mi sembra che la UEFA o la FIFA sia un'associazione di monaci francescani o meglio se uno già dovesse cominciare a inzigare sui mondiali in Qatar perché sono stati dati al Qatar ci sono tutte le serie le motivazioni sono che c'è una politica di alternativa una volta si fanno in Sud America una volta in Europa una volta in Africa sono stati fatti in Sud Africa e mancavano quelle zone lì poi dopo uno può dire tutto quello che vuole però però c'è la logica c'era la secondo me è proprio la mancanza questi sono imprenditori che purtroppo per un motivo o per l'altro peraltro anche poco insomma hanno un po' di responsabilità anche la UEFA e la FIFA se vogliamo perché se parliamo di debiti di questo livello più qualcuno dovrebbe controllare se nessuno controlla da 100 si va a 200 da 200 a 300 400 500 800 supera il miliardo e allora chi ha questi debiti qua non ha altra motivazione della testa che è quella di fare soldi e perciò cerca di fare soldi in tutte le maniere sì chiudo con l'ultimo passaggio sono totalmente d'accordo aggiungo sempre a proposito del mio fastidio da bravo ragazzo di provincia perché tu sei a Biareggio io sono nato a Como che è ancora più provincia di Biareggio però quando io ho letto le interviste e le dichiarazioni di Karl-Heinz Rummenigge che ha giocato in Italia ha giocato nell'Inter di cui sono tifoso adesso è l'amministratore del Bayern Bayern che non voleva e non avrebbe aderito alla Superlega Bayern che è protagonista internazionale Bayern che ha i bilanci in ordine Karl-Heinz Rummenigge contro la Superlega perché abbiamo gonfiato troppo la rana dei compensi dei cachet delle provvigioni ai procuratori ha fatto un bellissimo discorso totalmente sottoscrivibile passano 24 ore e il Bayern per strappare per la prossima stagione l'allenatore che si è conto in classifica paga sull'unghia una penale non l'ingaggio una penale di 25 milioni che io volevo dire a Karl-Heinz va benissimo tutto il discorso su abbiamo esagerato ma avete predicato bene e dopo 24 ore avete razzolato male o sbaglio o sono troppo io che sono troppo abrasivo sono le motivazioni che erano state date elencate per giustificare la non partecipazione alla manifestazione erano belle erano lodevoli poi dopo quando vai a vedere che paghi una cifra mai pagata per diciamo per giustificare che porti via l'allenatore una squadra insomma diventa diventa un po' più la realtà è che loro ce ne hanno tanti soldi non hanno bisogno di soldi e perciò hanno hanno bisogno mi va bene che rimanga tutto così come senti l'Inter è avviata a vincere lo scudetto qui è inutile fare scaramanzia eccetera nel senso che mi pare evidente a meno che l'Inter non decida di perderle tutte di qui alla fine del campionato ma vince per meriti suoi o vince anche per demeriti degli avversari no no vince per meriti vince per meriti suoi perché che poi dopo gli avversari quest'anno non ci siano a parte il Milan che ha fatto diciamo metà stagione qualcosa di più anche ad altissimo livello e poi però nel momento in cui l'Inter è rimasta fuori da tutte le competizioni internazionali e anche dalla Coppa Italia e si è dedicato solo al campionato c'è stata una crescita costante continua che l'ha portata a essere indubbiamente la squadra più forte che c'è e perciò anche se la Juve o il Milan o l'Apoli o chi altro avesse fatto meglio di quello che ha fatto quest'anno con la crescita soprattutto negli ultimi 3 o 4 mesi che ha avuto l'Inter non ci sarebbe stata storia avrebbe vinto l'Inter comunque scusa piccolo flash che riguarda il campionato italiano e se vuoi anche la partita di ieri sera perché nella partita di ieri sera a Roma a un certo punto c'è stato il dubbio se nell'assegnare un rigore al Manchester United l'arbitro e anche il VAR che tutti e due sono stati a favore del rigore che infatti poi è stato battuto e realizzato qualcuno ha detto ma sì l'arbitro ha visto il rigore il VAR ha confermato il rigore ma non era rigore lo dico perché tu in quella chiacchierata quattro anni fa mi dicesti io sono favorevole alla tecnologia se si tratta di stabilire se una palla ha superato o meno la linea di porta se invece si tratta di moviola in campo ecco allora non mi trovo d'accordo volevo sapere se in questi quattro anni hai rivisto questo giudizio o cosa pensi del VAR l'ho rivisto perché il VAR si è dimostrato uno strumento importante che ha chiarito tante cose non tutte per dire la verità qualcuna qualcuna perché gli arbitri non vogliono sentire magari suggerimenti e non vanno a vedere quello che hanno secondo loro già giudicato correttamente oppure delle volte ci vanno a vedere è quello che a noi vedendo la moviola diciamo chiamiamola così ci sembra evidentissimo allora non sembra così evidente è successo anche questo però però diciamo che nella stragrande maggioranza il VAR ha chiarito tantissimi episodi che hanno portato un po' più di giustizia sul campo senti la nazionale la nazionale di Mancini che mi pare abbia acquisito una sua identità e fisionomia di gioco mi pare anche qui è una delle cose più belle del calcio degli ultimi due anni il calcio italiano la nascita di questa squadra la creazione da parte di Mancini la qualità lo spirito che si è creato il senso di partecipazione la voglia di partecipare è una sensazione molto bella quella che danno e la cosa bella sai qual è soprattutto è che tutto questo sta succedendo in un momento nel quale in Italia ci sono il 70% di calciatori stranieri giocano il 70% di giocatori stranieri e il 30% di giocatori italiani se pensi che quando allenavo la nazionale io era contrario io sceglievo sul 65 il 70% di italiani e il 30% di stranieri adesso è il contrario nonostante questo Mancini è stato bravo e dico è stato bravo perché ha convocato dei giovani calciatori ancora prima che questi esordissero in Serie A mi riferisco a Zagnolo per esempio e ha dato dei messaggi alle società fate di giocare i giovani perché sono forti sono bravi ed è riuscito a fare un gruppo di 25-30 giocatori che nonostante ripeto che ci siano in questo momento tantissimi italiani in Italia fanno ben sperare per una nazionale che sia competitiva e fa un gioco brillante propositivo internazionale mi piace mi piace molto ti voglio chiedere in conclusione perché come immaginavo poi i 30 minuti con Marcello Lippi sarebbero volati nel senso che credo che potremmo ancora chiacchierare amabilmente almeno altri 30 minuti e verrebbero facili ma quando hai un interlocutore che ha la storia personale e che ha conosciuto il mondo del pallone a 360 gradi ti potresti sbizzarire ti voglio parlare di Pirro per una questione di eleganza nostra mia spero e tua acclarata non ti voglio far giudicare il Pirro allenatore della Juventus ti chiedo però conto di una cosa cioè di un episodio che ti riguarda ai mondiali del 2006 e che io non conoscevo o meglio quando la Juventus ha giocato col Benevento allenato da Inzaghi è uscita fuori sui social che i social sono da una parte di vista una roba che è meglio non frequentare dall'altro però ogni tanto ci sono delle perle che saltano fuori allora qualcuno vedendo l'immagine dell'abbraccio fra Inzaghi e Pirlo prima della partita ha tirato fuori un episodio che Pirlo racconta nella sua biografia autobiografia a proposito del mondiale 2006 adesso visto che abbiamo detto che siamo persone eleganti non so se vuoi confermare parlare o smentire o bypassare l'aneddoto ma Pirlo racconta che a un certo punto tu hai fatto una sfuriata ai mondiali del 2006 nello spogliatoio perché dicevi che quello che erano le chiacchierate fra te e i calciatori finivano sui giornali e che quindi c'era un uomo che non poteva essere definito tale che evidentemente faceva pettegolezzi con i giornalisti ok ok ho capito perfettamente ti chiedo di fermarti lì e ti rispondo molto serenamente no aspetta aspetta fammi finire solo una cosa una cosa perché Pirlo dice Marcello non fece nomi la sfuriata fu contro tutti lui se ne andò noi ci guardammo e poi dopo di che guardammo tutti in Zaghi lo so questo io ho fatto nomi perciò nessuno ha fatto nomi questa ecco perché ti ho fermato lì prima di tutto l'inesattezza sai qual è? è che non è che ho fatto una sfuriata perché ne ho fatte diverse sfuriate nel periodo dei mondiali ne ho fatta più di una ed erano molto forti perché quando io è sempre stata la mia caratteristica che quando vedevo un atteggiamento sbagliato da parte di qualcuno oppure che era un atteggiamento che era un po' troppo egoistico eccetera eccetera io mi arrabbiavo riunievo la squadra e facevo notare che non era quella la maniera di essere squadra e perciò è vero la sfuriata l'ho fatta ma non è stata l'unica bene allora l'ultima cosa quattro anni fa ti chiesi in conclusione della nostra chiacchierata c'è qualche allenatore che tu degli allenatori italiani perché poi ad esempio noi siamo anche diciamo il paese in cui Murigno è rimasto nella storia italiana per il triplete con i nerazzurri poi adesso Murigno è al quarto esonero consecutivo sick transit gloria mundi un giorno sei sugli altari un giorno sei nella polvere ma io ti dici c'è qualcuno degli allenatori italiani che potrebbe essere il tuo erede e tu mi hai risposto per carità di Dio già mi danno dell'arrogante del presuntuoso ci mancherebbe altro che io desini un mio delfino un mio erede e mi dicessi un'altra cosa io comunque penso che in assoluto per me il migliore è Carlo Ancelotti che tra l'altro dicesti mi ha pure battuto in una finale di Champions è vero è vero è sempre confermo Carlo è uno dei più grandi allenatori della storia europea del calcio e di conseguenza italiana nel frattempo però visto seguito seguito a vari allenatori per esempio quest'anno mi sono piaciuti tantissimo uno era già conosciuto aveva già dimostrato di avere delle grandi qualità di costruzione di squadre ed è del zerbi ti dirò che aveva degli atteggiamenti inizialmente che non mi piacevano tanto adesso è cambiato è molto maturato e mi sembra molto molto bravo quando si vede giocare alle sue squadre giocano sempre molto bene indipendentemente da quali giocatori giocano e questa è la cosa più importante perché quando una squadra gioca bene indipendentemente da chi gioca vuol dire che c'è una forte mano dell'allenatore mi è piaciuto tanto anche Juric e mi è piaciuto tanto anche italiano quello dello Spezia che anche lo Spezia che considerando come hanno creato la squadra in 15 giorni perché fecero il playoff l'anno scorso hanno vinto campionato di B si presentano in serie A fanno questo tipo di risultati che se la dovranno ancora lottare fino alla fine però giocano un calcio sempre propositivo con qualsiasi squadra che giocano sempre a pressare sempre avanti mi è piaciuto molto come ha lavorato l'italiano perciò De Zerbi italiano e Juric bene allora ringraziamo Marcello Lippi dalla sua via Reggio a cui è legata una famosa battuta che tutti hanno sempre considerato quella dell'avvocato si chiudo posso dire una cosa perché io poi siccome ho avuto qualche conoscenza nella famiglia dell'avvocato con cui poi mi sono tolto la soddisfazione di andare a verificare qualche aneddoto in realtà non era come dire una critica o una battuta contro Lippi anzi era una battuta di apprezzamento nei confronti di Lippi dicendo Lippi è un grandissimo allenatore la cosa più bella di Via Reggio e poi siccome come è noto all'avvocato il genere femminile e le donne non sono mai dispiaciute ha detto se proprio devo mettere il messaggio uno davanti a Lippi a Via Reggio ci metto Stefania Sandrelli ma non era una critica a Lippi no? no no è vero è vero dice avete mi raccomando ragazzi avete un grande allenatore il meglio prodotto di Via Reggio dopo la Sandrelli dopo la Sandrelli e questo vabbè visto l'avvocato e visto il suo cursus sonorum infatti come Tom Burr possiamo anche chiuderla qui Lippi Marcello ti ringrazio di cuore grazie di questa piacevolissima piacchierata ci vediamo tra un paio d'anni con calma faremo un altro bilancio va bene ciao arrivederci grazie alle fonti ovviamente continuate a seguirla H24 come sempre dalla linea a Milano ai colleghi e agli ospiti noi ci ritroviamo lunedì vi anticipo che lunedì ci sarà un'altra esponente del mondo del calcio questa volta femminile Carolina Morace bene buon weekend a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.